Arsiero, l'ultima tragedia della strada si consuma in pochi maledetti istanti. Sono le 9 di sera quando in Via dei Longhi, un 25enne alla guida della sua berlina, esce da un parcheggio ma lo fa in retromarcia. E proprio in quel momento sta passando una moto. A bordo Andrea Canale, quarantenne di Tonezza del Cimone, è una coetanea di Vigonza. Lo scontro è fatale, per il quarantenne la situazione appare subito gravissima. Viene ricoverato all'ospedale San Bortolo a Vicenza ma non ce la fa, muore per lo shock emorragico. L'amica invece viene ricoverata all'ospedale di Mestra in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Valdastico che accertano la dinamica dell'incidente e fanno l'alcol test all'automobilista che risulta negativo. La macchina e la moto vengono poste sotto sequestro a disposizione della procura di Vicenza mentre il 25enne di Arsiero che, secondo i rilievi dei militari, ha omesso di dare la precedenza è stato denunciato per omicidio stradale.